Luca, vieni qua, se ti metti in piedi Luca, vieni qua, vieni qua, vieni qua Vieni qua, vieni qua Vieni qua, vieni qua, vieni qua Vieni qua, vieni qua Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua un po' ti faccio anche un sento si cosa bella bella se chiusa l'Atalanta è un oratorio? è un oratorio? è un oratorio? è un oratorio? secondo te cosa facciamo? vinciamo? cosa facciamo qua? vinciamo? 3 a 2 oppure pareggiamola? la perdiamo o no? è un oratorio non lo so 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 va bene, va sottolineare rispetto a Parasso come è venuto? il 2005 il 2003 Brauzzo l'appunto del 2005 Samuele Samuele c***e cosa faccio? l'appunto no no come fanno? ma non hanno freddo loro? no quando corrono fanno correndo ora non è freddo quando viene all'indulzano più giugno da pallone e sono lì che costa vabbè ma qui se ne sta sta arrivando a quella straccia dai Miki dai Miki bravo Miki non mi fai niente l'acqua dai si vedi qualcosa eeeh cinesi roti questa l'acqua dentro Gabri eeeh vabbè pera vedete eeeh per averlo era meglio calci l'angolo eeeh eeeh No! Che incendio! Che incendio! Poi! Però bene! Non lo tira più forte! Sì, stanno giocando bene! Sì, non faccio le patate. Chiudo, chiudo. Sai che io quasi guardi cosa faccio? Vedi da smonto e la faccio con le mani. Ma tu chiedi, mi stai fai da? La facciamo sempre. Per poi riguardare gli errori. Vai, vai, vai Michi! Grazie! Bravo! Grazie a tutti. 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 Perché non lo hai fatto vedere? Non è la prima partita che fa. È troppo stupido. Ma è sempre lui che abita a voi. No, sempre no, fortunatamente. Eh, io vabbè, non lo so. Ehi, ciao. Mi va senza bene, mi sa, era tutto un po' di rilascio. Mamma mia, beata per l'astruzzo. Vero? Per il colbuccio. Ah, dai. Dai, Michele, che lo fai? Su! Ah, dai. Dai, Michele. Questa nua è via a segge. Questa segno? Ciao. Ciao, Nino. Via, 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 via. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.